Una Nissa che non riesce ad uscire dal suo momento di crisi e incredibilmente viene sconvitta al Tomaselli per 2-3 dalla CUS Palermo. Inizio shock per i padroni di casa che in un minuto vanno in svantaggio di due reti. Al decimo minuto punizione per la CUS, intercetta Chimenti ma nel mucchio su respinta Montoro porta in vantaggio gli ospiti. Doccia fredda per i biancoscudati che dopo non appena 60 secondi su cross dalla destra Fofanà di testa riesce a trovare il raddoppio. Nissa in credula che riesce ad entrare in cara alla mezz'ora con il gol di testa di Vignone su assist di Esposito. Nella ripresa esce una Nissa galvanizzata dagli spogliatoi che comincia a giocare e creare molte palle da gol ma la porta difesa da Di Salvo sembra stregata sino al 31esimo quando Benivegna riesce a trovare il pari. Sembra il gol della scossa con una Nissa intenzionata a raccogliere l'intera posta in palio ma nei minuti di recupero su una punizione vicino l'area di rigore nissena Sheriff riesce a trovare il colpo di testa vincente che regala alla Cus tre punti e cala il gelo al Marco Tomaselli con i tifosi che contestano i padroni di casa e attimi di scintille. Adesso il calendario non aiuta gli uomini di Alessio Sferrazza che saranno di scena prima ad Enna e poi in casa con il Misilmeri. A fine gara abbiamo intervistato l'allenatore della Cus Palermo Ferdinando Zappavigna mentre la Nissa ha indotto il silenzio stampa. Sicuramente noi siamo una squadra come si suol dire molto giovane lo dimostra anche il numero di ragazzi che abbiamo impiegato quindi sicuramente dal punto dell'esperienza qualche cosa la possiamo concedere specialmente a squadre blasonate come oggi ad esempio la Nissa però la cosa importante è che questi ragazzi non si danno mai per vinti. Da quando abbiamo iniziato insieme a gennaio questo percorso di crescita devo dire che sta dando i suoi frutti e sicuramente siamo molto contenti per il risultato di oggi. Io per quello che ho visto oggi ho visto una grandissima squadra devo essere onesto e faccio i complimenti al mister della Nissa non è retorica perché è una squadra che gioca bene a calcio lo sapevamo abbiamo sfruttato questa situazione e infatti il primo tempo abbiamo sfruttato due ripartenze andando andando per fortuna dentro sono molto sincero e quindi ritengo che la Nissa sinceramente non abbia grossi problemi perché comunque mancano sei partite e con la qualità i giocatori che ha sicuramente racimolerà quei pochi punti ecco che mancano per mantenere la categoria assolutamente anche perché ripeto è veramente una squadra di livello. eccellenza gironea ventiquattresima giornata La classifica Enna e Acragas 58 Profavara 51 Don Carlo Misilmeri 47 Mazzarese 41 Mazzara 39 Sciacca 38 Casteldaccia e Nissa 28 Oratorio San Ciro e Giorgio Leonfortese 25 Castellammare 24 Nuova Città di Gela 22 Resuttana 20 Cus Palermo 19 Chiude la Parmonval a 8 Al prossimoibo Mazzara 39 Corre in framento Viしoh Sioh य